Lo hanno avvicinato chiedendogli un passaggio in auto al termine di una serata e lo hanno minacciato, picchiato e successivamente derubato di un telefonino e del portafogli, intimandogli anche di ritirare al bancomat 100 euro per andare ad acquistare la droga nel quartiere Rancitelli. L'episodio è accaduto venerdì scorso e la vittima è un 29enne di Chieti, mentre i due aggressori sono stati arrestati dalla squadra mobile della questura di Pescara. In manetta infatti sono finiti Omar D'Amico, 23 anni, e Pierluigi Bellia, di 21, entrambi residenti a Chieti. Ed è stata una fortuna riuscire a fermarli prima che potesse avere magari questa serata un epilogo più infelice. Qui noi siamo soddisfatti di aver pattugliato nel migliore dei modi, nottata in questione quella zona, in questo servizio che era proprio destinato a questo. Aveva come funzione quello di prevenire e reprimere eventuali reati contro la persona, contro il traffico di stupefacenti, contro il patrimonio. Ma ovviamente ci dovranno essere degli ulteriori approfondimenti, vista la gravità di quello che è successo. Comunque sembrano per il momento far configurare proprio queste ipotesi di reato. Un sequestro di persona, rapina, lesioni personali, spacciuti stupefacenti, con il sequestro di persona e la rapina che sono già cominciati in ambito chietino per poi finire e terminare dopo tre ore, grazie al nostro intervento a Via Lago di Capestrano a Pescara. All'interno dell'auto gli agenti della polizia hanno anche recuperato, grazie alle indicazioni del giovane pestato, un involucro con 50 grammi di hashish e poi a terra nelle vicinanze, un altro piccolo involucro con mezzo grammo di cocaina gettato dall'auto e probabilmente acquistato poco prima. La vittima è stata medicata in pronto soccorso all'ospedale di Pescara per ferite al volto e giudicata guaribile in dieci giorni. La vittima ha ringraziato gli agenti, ha detto sono orgoglioso di pagare le tasse perché mi avete salvato la vita. Ovviamente era molto scosso, aveva subito parecchie percosse, parecchie botte, aveva paura sicuramente che l'epilogo della serata fosse diverso per cui quando ha visto i poliziotti che fermavano la macchina dove era stato sequestrato è chiaro che era contentissimo.